Settimana di preparazione al ventitraesimo turno del Girona F. Match interno per il Campobasso che riceve a Selvapiana la Vastese. Incontro importante per il Rosso-Blu con l'obiettivo di continuare la serie positiva iniziata dieci giorni fa con la prima in panchina di Massimo Silva. Continuità la parola d'ordine del tecnico che vuole sfruttare al massimo tutte le gare interne per arrivare alla salvezza diretta. Contro una Vastese in crisi di risultati. Tre punti nelle ultime sei uscite con un successo che manca da metà dicembre. La società ha esonerato due settimane fa mister Colavitto. Al suo posto l'ex Campobasso e Trivento Massimiliano Favo che ha esordito con una sconfitta interna contro il Matelica. Intanto la prefettura di Campobasso ha limitato a 50 i biglietti destinati alla tifoseria della Vastese. Non solo, la stessa società aragonese dovrà comunicare alla Questura i nominativi dei 50 tifosi che si grecheranno al Selvapiana. Insomma, i problemi non finiscono mai. Uno scenario grottesco per una partita di calcio del campionato di Serie D tra una squadra in lotta per la salvezza ed un'altra alla ricerca di un piazzamento play-off. Non di certo un match definitivo per entrambe. La reazione a questa notizia non può essere altra che una sana risata sarcastica. Turno interno anche per l'Olimpia agnonese che riceve al Civitelle la Iesina. 32 punti garantiscono una discreta tranquillità sul primo obiettivo dei Granata, la salvezza. Ora la stagione può cambiare. La gara contro la Iesina è nettamente alla portata degli uomini di Del Grosso che vogliono i tre punti per chiudere i giochi salvezza e lanciarsi in ottica play-off. Nei piani alti della classifica, secondo turno esterno consecutivo per la fermana, ospite del Monticelli. I canarini hanno la possibilità di allungare nuovamente sul Machelica visto che la squadra di Vittorio Esposito osserverà il turno di riposo per la vicenda a Chieti. Ricordiamo che la fermana ha già riposato. Dunque un successo contro il Monticelli può lanciare giallo-blu a più 5 sul Matelica. Grazie a tutti.